Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ciao ragazzi, siamo qui in questo nuovo video per un nuovo episodio della carriera con il nostro Napoli Andiamo! Eccoci ragazzi, oggi andremo a giocare gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa Eccoci ragazzi, abbiamo fatto un po' di cambi, abbiamo messo Conti al posto di Sai, Zielischi al posto di Amsic Savic al posto di Allan, Gomez al posto di Giorginio, Milik al posto di Mertens e Keita al posto di Callejon Per far rifiatare un po' tutti Rifiatare? Il italiano correggito Andiamo ragazzi Si, mi chiede Si dice, rasciutare Però Minik al posto di Mertens e Keita al posto di Callejon E' tutto pronto per questa spina che vale per gli ottavi di finale Ehi, quindi vale gli ottavi di finale questa spina Andiamo ragazzi, si parto Ti, 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 ti ta, ti, ti, ti molti Rincon, pavolette, pavolette Vai guglamually, Prompettara per lorenzo vai lorenzo vai lorenzo unizio no la battaglia o stavolta se il palmi di numero 10 mette insi il numero 10 3 non resta nella posizione portiere, è il grande portiere è fortissimo vai calcio d'angolo battuto da Keita in mezzo conti non ci arriva e ci arrivo io hai visto come sei buttato il tuffo del filo vai Zieliski per Milinkovic vai Sergio attenzione per Gakpe attenzione albiolo no cosa fai albiolo fuori gioco albiolo bello fresco di rinnovo vai Reina per Kulibaly dalla su dalla su Kulibaly se ne va Kulam lascia sul posto il marcatore volevo lasciarle pure questo attenzione Gakpe attenzione a Pavoletti grande conti Pavoletti è forte no Leonardo Leandro ma che combini questo ciucci attenzione a Rincon portiere 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 mi ha fatto vabbè ma là perché è uscito perché il pallone stava andando là e stava solo lui perciò ha fatto bene uscire però ma che papra non doveva spazzare così ragazzi fateci sapere le commenti se mi è mai successo sto portiere è proprio scemo o prendiamoci a Perino Pai Silischi po' l'ha deviato il passaggio nota attenzione Mugnoz vai dobbiamo pareggiare la coppa italia la vogliamo vincere non la vogliamo vincere la dobbiamo vincere no 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 ma che cazzo fa la difesa fa lo sci rigoni 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 di di bala ebo di bala vai felì vai felì 2 a 0 è mo è mo è veramente vai vai chi è ta è chi è ta poi ti lamenti che non ti facciamo giocare era meglio non farli tu doff è laxalt lax salto vai 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 fai presto michae fai presto non perdere tempo chi perde il tempo felice da qua colti colti bene che il lerone perchè la passa là l'avevo passata a quello alla nero ovviamente io ci tengo l'erone è merda no quello era l'erone io ci tengo l'erone ragazzi no vai ha fatto l'assist felice vai vai reina per albiol vai passa subito alza e vai sopra che passai vai gulam per insigne gulam mamma per il vai 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 dalla qui dalla qua sto per l'insigne vai felì vai a zio pietro ma guarda ma guarda l'assist l'impalli del cane vai 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 no ho fatto bene cambia di gioc vai conti per culibali vai grande lero il mio lero preferito passala c'è un lero e bar vai 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 gulam un altro lero forte guarda l'app vai papo papo come si vediamo ce l'ha papo ti prego questi tutti questi acquisti stanno facendo tutti schifo gli acquisti che abbiamo fatto o 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 m c m o c no che ha fatto attenzione rio in sera cheita crita crita quando il momento guarda il momento che i davvero a mi luce ma no vai vai zieliski per milinkovic suciarsi proprio mamma mia quant'è scarso pure Savic passa oh se la c'è relazione bocca a bambi togliamo un po' a sti scorsi beh, io credo il loro felli io credo il loro mettiamo a bett mettiamo a bett risultato saranno fuori e chi l'è mettiamo tre quartisti leva a gobez leva a gobez che sto giocando alla chiavaca o a che ita no no a milink eh io a milink non la volevo togliere volevo togliere a Savic va bene a gobez va bene così per ora allan lo vogliamo mettiamo allan che è al posto di milinkovic Savic che si sta rivelando una vera e propria chiavica vai 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 andiamo eh battono loro sti ciucci via 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 vai 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 ma che che ha le fa ma no col tacco gliela ripassi l'ota gag pe stu gag pe morì no attenzione l'acsalto grande calidù mamma mia vai 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 lorenzo vai lorenzo vai lorenzo vai lorenzo va via acceso il motore è acceso e qua finisce la benzina su mamma mia non si arrende non si arrende mamma mia che uomo che uomo ragazzi che uomo a giro ma chi è oh portiere portiere l'opio dopo l'orso che gol di insignia forza super felice andiamo andiamo vai 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 allan vai allan subito allan allan supera tutti allan e solo tirano gol gol mamma mia e subito c'è la rimonta si fa lo sentire allan due a due e andiamo grande lirone allan mamma mia vai subito vai subito andiamo ora il san paolo è una borsa ci penso io in difesa ci penso io no 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 perché 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 ci penso io felice vai 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 passa no che felice che bubo che va a tirare vai vai milic milic guarda come corre guarda come corre vede il compagno sopra di te la passa vai in mezzo con milic vai in mezzo con milic milic calo milic calo milic subito si fa mamma mia subito si fa lo mi ha fatto esultare volevo sentire i tifosi avversari che rimonta ragazzi che gioco è ma che gioco è che gioco è ah ah io mi sono fatto male vai mamma mia c'è sta sta mescassendo tutto vai vai ci penso io vai lì no no perché si è bloccato il nanologico vai nino ci penso io sulla palla sulla palla vai 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 prende pallone vai zio pietro vai zio pietro vedi il compagno libero la gliela massi vai milic mamma mia no volevo tirare la bomba da là muñoz vai milic non si arregla guarda qua ma che squadra è che squadra è questo è milic vai 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 alla fai spallate 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 la bomba oh te eh a chiamisa parla per te capito vai la vizio il zilie la palla a mertensi il tino cciuccio 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 c'è ma che è quasi impossibile stati zilie vai 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 passa la piano guarda che palla guarda che palla milic 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 eh felì ah stiamo giocando male no eh abbiamo smesso di giocare bene vai vai settantesimo minuto ragazzi tre a due mamma mia sto sudando tu ma che stai sudando hai chi schifo felì passa qui passa qui passa qui milic che palla per zielischi no mi ha fatto la fine attenzione a gentiletti è mia sulla palla no ha preso il pallone l'ota sta arbitro di merda insigna mi sa che è stanco poi va a finire che si infortuna un'altra volta metti a Callejon a Callejon mettiamo a Callejon sennò va a finire che insigne si infortuna un'altra volta metti che da sinistro molto vicino al rosso ma vuole dire qualcosa per fare più energia a quattro vai con Callejon vai l'amma amma mia che lei allo come faccio vai zielino pandev no fai il bravo che lo tiene capilla fai il bravo pandev fai il bravo ci sto io al difeso mi piglio tutta l'area di rigore attenzione l'azze è via portiere no come calcio spazzati dove la direzione lazzurri è via portiere grande ma porca puttana stupacuccio un avutcio un miara l'aveva pure salvata conti stupacuccio ma si può sperimentare eh la prendiamo la prendiamo vai 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 subito vai subito vai che lei vai che lei vai che lei è via Vai, 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 dalla qui, dalla qui, dalla qui Zielinski Ma poi, vai Ma tira, porca crottola Vai, 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 passa Che vita Zielinski Vai passalo qui Nooo Perché la devo passare sempre e tu l'ho? Eh beh, perché Zielinski quando tira non so niente Aspetta Vai, 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 stai libero là Alza il cazzo, mi sono sbarcato io per Callejon Wow, che ciuccio sto Callejon Lo zattila proprio Iacca, spito di come abbiamo preso Ma che ha la combinata? Vai, 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 vai subito Dove stai, dove stai? Sto qui Vai, Callejon Attacca il giocatore del Napoli Vai Tira Oh, che bollo, che bollo Che ha fatto E si era il re, la bo facevo, bolla E l'aveva fatto Bene vicino, bene vicino Però niente è servito Nooo Perché l'ha fatto così il calciolato? Maro Ma perché così? Finisce qui, ragazzi Finisce qui, ragazzi Si va ai supplementari Ragazzi, sono finiti anche i tempi supplementari 3 a 3 Oh, non vi abbiamo potuto far vedere i tempi supplementari Perché se no il video durava un po' troppo Ora andremo ai rigori Ragazzi, siamo in vantaggio 3 a 1 Se questo sbaglia, abbiamo vinto Ci sono io a porta A destra, a destra, a destra A destra, a destra No, centrale Mo' devo dire a io Se segno abbiamo vinto Keita, per favore Keita, per favore Keita Nooo Era già dentro, porca troia Eh, mamma mia Che vittoria Che vittoria Che vittoria Mamma mia Ragazzi, scusateci se non vi abbiamo fatto vedere tutto Ma il video non poteva durare più di tanto Ciao, al prossimo video Ciao, al prossimo video